E' partita questa mattina la campagna di vaccinazione contro l'influenza della ASL di Teramo. Siamo con il dottor Castelli che è un medico di famiglia. Insomma, l'importanza di questa campagna antinfluenzale? La campagna antinfluenzale è importantissima perché rappresenta un caposaldo nella prevenzione delle patologie e permette ogni anno di ridurre il numero dei morti. L'ASL sta facendo un grandissimo sforzo e con i medici di famiglia che collaborano a effettuare il vaccino nei loro ambulatori. Perché sono i medici di famiglia che possono effettuare il vaccino, ovviamente, quindi soprattutto i soggetti a rischio devono ovviamente venire da voi. Sì, tutta la popolazione oltre 65 anni è considerata a rischio e insieme a tutti i portatori di patologie croniche, pazienti oncologici, broncopenopatici, diabetici, ipertesi, via un'ampia corte. E lo effettuano gratuitamente, sia nei nostri ambulatori oppure anche al servizio della ASL. Ecco, ricordiamo l'importanza comunque di questa vaccinazione, anche legata esatto al numero di patologie e anche di morti. In fondo l'influenza fa più morti di altre malattie. Sì, l'influenza fa un numero enorme di morti. Con i vaccini si riduce ampiamente. Più aumenta il numero di vaccini e più si raggiunge un livello tale da bloccare la diffusione dei variceppi. E questo è fondamentale nella prevenzione. In questi mesi però si ascolta moltissimo anche in televisione, si legge anche sulla carta stampata, una certa campagna anche mediatica, antivaccinazione. Cosa si sente di rispondere da medico? Da medico dico che i vaccini sono una delle più grandi conquiste in assoluto. Ricordiamo per esempio che nel caso di Sabin, per il vaccino per la polio, un medico diede gratuitamente a tutti il vaccino, rinunciando a tutti i proventi. Già questa la dice lunga per la categoria di quale sia l'importanza. A seguire per noi i vaccini sono un caposaldo, una conquista. Ed è una grandissima spesa per il sistema sanitario nazionale. Non è assolutamente una cosa semplice da spiegare. Però il sistema sanitario spende tantissimi soldi per la prevenzione proprio in virtù dei benefici che si arrega. Quindi vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Senz'altro.